Bella idea, bella idea, a dare tutti quanti da Floridea, Floridea, ma che idea? I tutorial di Floridea! Il profumo e i di colori degli agrumi svelati da Bruno in questo tutorial. Gli agrumi parliamo di una vastissima famiglia di alberi, non necessariamente considerati alberi da frutto fine a se stessi, ma la loro bellezza nella fioritura, nel periodo della maturazione del frutto che crea quella coreografia di palloncini gialli attaccati alla pianta, dà a questa pianta anche una bella caratteristica estetica. Bruno, quante piante e quali piante si possono trovare qui da voi? Ce ne sono tante, ma ci vuoi fare un discursus veloce? È una cultura vastissima, intanto è una famiglia di piante che viene dall'India e dalla Cina si sono indemnizzate in Sicilia perché hanno trovato caratteristiche culturali perfette per la loro massima resa. Sia come i ibridi naturali, sia come i ibridi ottenuti dalla mano dell'uomo ci sono varietà immense. Sta terminando la vernatura della pianta, vuol dire che finito il periodo invernale in cui si dà la massima colorazione su una frutta matura, comincia la fine dell'inverno e la fioritura delle piante. Le piante che sono state riparate durante il periodo invernale si mettono all'esterno, possibilmente in pieno sole, si cominciano con le concimazioni per preparare la pianta per la nuova fioritura e la nuova fruttificazione.